Per avere un bue, minimo ci va 4 anni, bisogna tenerlo dai 4 ai 4 anni in mezzo in stalla, però il vero lavoro alla fine parte di qua, parte di qua dal vitellino appena nato e qui si fa una selezione di quali sono gli animali che potrebbero essere destinati a fare il bue. Intorno ai 3-4 mesi di età viene fatta la castrazione, poi a un anno circa c'è proprio la vera selezione. Si scelgono gli animali migliori, quelli che destiniamo e dobbiamo tenerli lì per 4 anni per avere il prodotto finale che è il bue. Siamo qui davanti a sua maestà il bue, come vedete la differenza è notevole, da dove siamo partiti a dove siamo arrivati. Un animale imponente, docili, perché se vedete sono tranquilli, il lavoro è lungo, però sarebbe quasi impossibile spiegarvi tutto il lavoro in un video che c'è dietro. Questo animale anticamente era stato usato come il trattore, veniva chiamato il trattore delle langhe, perché quando in pianura era già arrivata la meccanizzazione, in langha si usava proprio come forza lavoro. Usavano ancora questi imponenti animali. Poi nel 1910 è stata, è nata la prima fiera del bue grasso di Carrù e qui si è scoperto che era un prodotto eccezionale anche a tavola. A oggi, infatti sta, il bue viene solo più allevato per avere un'eccellenza sulle tavole. Grazie. Grazie a tutti.